...ragazzo, vai veloce, allarga bene, sulla sinistra c'è Datole, tagliamola a pezzi questa Juventus, strazziamola signora, avanti così, Datole in aria di rigore, troppo dietro, troppo dietro, Amsic, il destro da Renta, si confia la Renta, Napoli in battaggio, Napoli 3, Juventus 2, Napoli 3, Juventus 2, vogliamo morire qui, seppelliteci qui allo stadio olimpico di Torino, con questo Napoli, grande Napoli, Amsic abbracciato da tutti i tifosi azzurri, Amsic, Mareghiaro, doppietta di Mareghiaro, e il Napoli è in vantaggio, questo ragazzo è un patrimonio dell'UNESCO, patrimonio dell'UNESCO, Mareghiaro Amsic, che ha portato il Napoli in vantaggio, difendamolo, Mareghiaro Amsic, guardate De Laurentiis, che soddisfazione per lui, stiamo vincendo qui, a casa della Juve, dove c'è anche l'arbitro D'Amato, stiamo vincendo contro tutti, che grande Napoli, Guardate Amsic, con il pietto destro, nell'angolo più alto, Napoli 3, Juventus 2, Mareghiaro Amsic, doppietta per lui, sette golli in questo campionato, seppelliteci qui allo stadio olimpico di Torino, vogliamo vedere il Napoli vincente, vogliamo uscire con i tre punti in tasca, come non accade quasi mai, come non succede, da 21 anni, e adesso occhio alla Juve e occhio all'arbitro, occhio all'arbitro, non commettere. Grazie.